Diciamo che non sto al 100% ma bentornati in questo video video, Portogallo-Slovenia, siamo i calci di rigore, siamo al lancio della monetina, con un stato al centro, Oblak a sinistra, Ronaldo a destra. Il post partita da Francia uscirà più tardi, ma comunque cosa abbiamo visto stasera? Uno 0-0 che comunque è stata forse una delle partite senza alcun dubbio più emozionante degli europei. E andiamo a vedere i primi rigori di questo campionato europeo, ce lo si poteva aspettare magari oggi col Belgio, visto che stavamo riuscendo a tenerla e comunque c'è un ritmo che non vi dico, ma comunque Ronaldo ha sbagliato il rigore al 105esimo, Diogo Costa ha fatto un salvataggio della Madonna. Ha fatto lo stesso salvataggio su Cescò, la stessa roba che fece in finale dei mondiali, Emiliano Martínez su Colomoni. Partirà la Slovenia, fatemi prendere i nomi che così ce li azzecco pure. Ecco qua. Ce li dovrei avere. Mamma mia. Sti in ansia. Parte Josip. Ilicic contro Diogo Costa. Mamma mia, rimanete con me a reagire. Parte Ilicic. Parato da Diogo Costa. Parato da Diogo Costa. Come sapete, tifo il Portogallo, ma senza alcun dubbio tiferei la Slovenia se non ci fosse il Portogallo, perché è una nazione che mi sta troppo simpatica e mi dispiace tantissimo per Josip. No, no, proprio Josip. Non volevo che lo sbagliasse Josip. Dai, per favore. No, no. E' uno, anche lui, cioè cazzo, è uno dei giocatori a cui sono più affezionato, Josip, perché è veramente un giocatore straordinario. Va Cristiano. Io lo sapevo perché lo sbagliava quello, perché c'era la grafica che ingannava e per me quelle grafiche fanno sbagliare. Cristiano Ronaldo non batterà il quarto, il quinto, ma batte il primo. Cristiano. Cristiano! Azzecca l'angolo. Azzecca l'angolo, Oblak. Ronaldo va a dare il cuore ai tifosi, perché siamo tutti col cuore in mano. Mamma mia, calma. 1-0 Portogallo. Al momento, alla prima tranche di rigori. Ma comunque la Slovenia, ragazzi, ha fatto un partitone. Un partitone. Il Portogallo è stato tutto il tempo offensivo. Ma questa partita ricordava tanto Cecchia contro Portogallo. Ma la Slovenia ha dato il cuore. Ha dato tutto e sono ripartiti in contropiede. E hanno fatto veramente un partitaso. Un partitaso. Non so chi sia questo. Il numero due, forse. Oltre, forse Balco Leicic. Comunque parte parato da Diogo Costa ancora. Ancora Diogo Costa è MVP. MVP stasera perché a quest'ora, anzi non è MVP Oblak, ma i due portieri di MVP. Perché a quest'ora, senza di lui, sarebbe fuori il Portogallo. Perché la Slovenia là, se non c'era lui, Sesco avrebbe segnato. Roba fuori di testa, paradossale. Ma ancora resta un altro rigore a tirare per prendere il doppio vantaggio per il Portogallo. Vi stavo dicendo un 4-4-2 impostato alla perfezione a parte la Slovenia. Che comunque riparte in contropiede. È una partita straordinaria a parte la Slovenia. È straordinaria. E il Portogallo continua a dimostrare tante difficoltà nel concretizzare. Cristiano Ronaldo, grande partita, nonostante abbia sbagliato il rigore. Bruno Fernandes contro Oblak. Oblak mi pare che fosse abbastanza parare i rigori. Vai a indicare con la mano destra la parte sinistra. Va. Bruno Fernandes rimane fermo. Rimane fermo Oblak. Esulta CR7 perché è 2-0. È 2-0 per il Portogallo. Non iniziamo a fare i calcoli ma comunque inizia a essere un bel vantaggio 2-0. Però non dico niente. Non dico niente. Mi dispiace tanto per la Slovenia. La Slovenia non l'avrei mai. E dico mai voluta vedere qua. Ma perché non l'avrei mai voluta vedere qua? Perché non la volevo col Portogallo. Senza alcun dubbio. Io volevo... Avrei voluto un Slovenia magari che passasse da prima e si beccava chi è che c'era. Con l'Inghilterra e la Slovacchia. Sarei stata la persona più felice di questo mondo. Adesso va il numero 7. Che cazzo è il numero 7? Non ce l'ho. Izevic. Qualcosa del genere. Ho letto qualcosa. Verbic. Va. La dischettola. Mamma. Non ci posso... Non ho mai visto questo. Posso permettermi di dirlo. Non ho mai visto questo. Pare ancora Diogo Costa. Forse lo fece Bono ma... Ma Bono c'erano i giocatori che li sbagliavano. Quali stanno tirando bene. Straordinario Diogo Costa. Straordinario. Straordinario. 2-0 è l'opportunità già di chiudere qua. Per il Portogallo. Mamma mia. Mamma mia. Sapete che io tifo Portogallo. C'erci R7 e tifo Gm7. Poco a dire. Bernardo Silva se non l'ho visto male. Mamma mia. Che serie rigori. Vediamo adesso se lo para o Black. O Black non merita comunque la Slovenia. Cioè... Poverino Black. L'avrei voluto vedere una nazionale più grossa. Parte Bernardo. Portogallo in semifinale. Che strizzata di mutande. Che sgommatona. Il Portogallo passa. Dimostra forse di avere dei limiti. Ma tanto, 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 tanti applausi per questa Slovenia. Che ha fatto un europeo straordinario. Straordinario. Un europeo pazzesco. Io infatti stasera me lo aspettavo. Che avrebbero potuto mettere... Potessero forse. Non so il verbo. Sto sbagliando. Comunque. Potevamo mettere in difficoltà il Portogallo. Ma segnatevi la Slovenia. Perché questa Slovenia ha veramente tanta roba. O Black. Mi pare che abbia 32-33 anni. Ma ha dato gli ancora tanti, tanti anni. Perché è un portiere. Hanno Sheikskola davanti. Hanno B-Hall. Hanno veramente dei bei giocatori. Karnecic. O Karnecic. Non mi ricordo come si chiama. Ma comunque. Tanti giocatori buoni. Questa Slovenia. Ne potremmo parlare anche per il Mondiale. Per quanto mi riguarda. Siamo già qualificati proprio dalla stessa competizione del Mondiale nel 2010. Diogo Costa è in lacrima. Ma questo è il primo passo. Perché adesso ci sarà la Francia. Ma straordinario. Straordinario Diogo Costa. MVP della partita. MVP. Mi spiace per O Black. Mi spiace per Sheikko. Mi spiace soprattutto per Josipi Lichic. Perché questa nazionale... Ero contento di vederla finalmente. È una competizione internazionale. Nel 2010 stavo là forse a mettermi le macchinine in bocca. Quindi mettiamola così. Non potevo saperlo. Ma comunque questa Slovenia ha tanta tanta roba. Se continuano così potranno fare bene. Ho il cuore frantumato in questo momento. Cioè ho il metà cuore frantumato e il metà cuore felice. Perché non volevo per niente vedere l'uscita da Slovenia. Ma soprattutto avrei voluto vedere Portogallo-Slovenia. Resta il fatto che comunque questa è stata la mia reazione ai rigori. Vi aspetto tra poco col post partita di Francia-Belgio. Ci vediamo, ci risentiamo anche domani. Ciao.